Musica Ben ritrovati a questa nuova edizione del Tg di Venezia. Da lunedì 11 ottobre in Veneto e nelle Regioni Bianche il Consiglio dei Ministri ha concesso il 100% della capienza a teatri, sale da concerto, cinema e locali di musica dal vivo. Del 50% al chiuso e del 75% all'aperto alle discoteche. Del 75% all'aperto e 60% al chiuso a stadi e palazzetti per eventi sportivi. Inoltre nei musei è stata eliminata la distanza interpersonale di un metro. Il tutto con l'obbligo di green pass e mascherina. In caso contrario verrà emessa una sanzione e nel caso di un secondo mancato rispetto delle regole sulla capienza e green pass, in alcuni settori ci potrà essere la chiusura della struttura fino a 10 giorni. Il sovraittendente del Teatro La Fenice di Venezia, Fortunato Ortombina, ha accolto positivamente questa decisione del governo Draghi, lamentando comunque un ritardo che ha causato al Teatro La Fenice una perdita economica di mezzo milione di euro solo per le repliche del rigoletto. Lo stesso Ortombina ha sottolineato che grazie a questo nuovo decreto si potranno effettuare nuovi investimenti, nonché lanciare campagne avvonamenti sia per la sinfonica che per la lirica. Ma nonostante queste nuove disposizioni, l'Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre ribadisce come le misure del governo non siano sufficienti ad arginare le difficoltà emersi in questi mesi di pandemia. In quasi un decennio il vento ha perso più di 16.000 commercianti e oltre il doppio di artigiani, ad annunciarlo l'Ufficio Studi dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre. A provocare questa situazione, oltre ai tradizionali problemi legati all'imposizione fiscale, al credito e alla burocrazia, si sono aggiunti le limitazioni di mobilità, il crollo dei consumi della famiglia, nonché il boom dell'e-commerce. Ascoltiamo. A livello occupazionale il Covid ha colpito quasi esclusivamente gli autonomi. Con tante botteghe e negozi chiusi, anche le città del Veneto sono meno vivibili e più insicure. Per questo bisogna aiutare le micro imprese rimaste. Oltre a essere una parte importante della nostra economia, sono uno dei punti di forza del Made in Italy, un patrimonio che dobbiamo assolutamente difendere. Cambiamo argomento e spostiamoci a Mestre, dove il sindaco Luigi Brugnaro, martedì ha annunciato i prossimi progetti per la città, il nuovo restalling della stazione da parte di RFI e la riqualificazione del quartiere Piave. Il sindaco, assieme al comandante della Polizia Locale Marco Agostini ed altri dirigenti e tecnici responsabili, martedì sera ha fatto un sopralluogo della zona, passando da Piazzale Donatore di Sangue fino alla stazione, passando per Via Dante, Piazzale Favretti e appunto Via Piave. In questa zona verrà implementata l'illuminazione e verranno installate nuove telecamere. Prima del sopralluogo Brugnaro ha sottolineato la positività del Via Libra all'acquisto di 21.000 m2 di Via Trento, al confine con il Parco Piraghetto. In questo modo il comune entrerà in possesso dell'area e potrà iniziare i lavori di bonifica e di piantumazione. Oggi, poco prima delle 15, i vigili del fuoco sono intervenuti in A4, tra gli svincoli di Portogruaro e Sastino di Livenza, in direzione Venezia, per l'incendio di un auto articolato. I pompieri hanno spento l'incendio che ha coinvolto la motrice, riuscendo ad evitare l'estensione delle fiamme alla semirimorchio, sul posto personale dell'autostrada e polstrada. Oggi pomeriggio intervento dei vigili del fuoco ad Eraclea per uno scontro frontale tra un'auto e un furgone. Il bilancio è di un morto e tre persone ferite. Purtroppo, nonostante i soccorsi del 118, il medico ha dovuto dichiarare il decesso dell'automobilista. Feriti in maniera lieve i passeggeri a bordo del furgone. I carabinieri hanno deviato il traffico ed effettuato i rilievi del sinistro. Ieri i vigili del fuoco hanno dovuto soccorrere due marinai egiziani che si erano infortunati in mare a 8 miglia a largo del porto di Chioggia. Intorno alle 13.30 la capitaneria di Porto aveva lanciato l'allarme. Due membri della nave cargo panamense Ellen erano rimasti gravemente feriti alle braccia. L'elicottero dei pompieri, a causa del forte vento, ha dovuto compiere due voli per trasportare i feriti e metterli in salvo. Entrambi sono stati portati all'ospedale di Chioggia ed è stata avviata un'inchiesta per chiarire la dinamica dell'incidente. E ieri, lungo via Roma a destra a Jesolo, si sono scontrati un autocarro con a bordo due trentenni e un'automobile di una coppia tedesca che viaggiava con una roulotte al traino. Quattro i feriti, di cui due in codice rosso. Un passeggero del furgone, trasportato in elissoccorso all'ospedale all'Angelo, e il marito della coppia. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, il camioncino avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta e dall'impatto la roulotte si sarebbe staccata dalla vettura, roteando poi su se stessa di 180 gradi, mentre la vettura si è ridotta ad un rottame. Sul posto, oltre al personale medico, sono intervenuti i pompieri per la messa in sicurezza dei mezzi e la polizia locale per i rilievi. Parliamo ora della presentazione dei dati di occupazione. alberghiera della stagione balneare 2021, tre mesi su cinque, più del 2019. Il presidente dell'Associazione Iosolana Albergatori, Alberto Maschio, ha illustrato durante la tradizionale assemblea dei soci AIA i dati di occupazione alberghiera 2021, sottolineando il grande ritorno delle presenze straniere, un'occupazione media 22 maggio-17 settembre 2021, sopra il 70% e l'impatto favorevole di grandi eventi sportivi sull'occupazione e su tutto il territorio. L'unica nota dolente, il grande problema del reperimento di personale. Sentiamo. È un segno positivo, chiaramente, che deve dare fiducia e anche consapevolezza al settore intero. Non sono dati che ci aspettavamo quando siamo partiti in questa stagione 2021, sono dati che ci hanno piacevolmente stupito, non devono però rasserenarci troppo, devono servirci come stimolo a capire che la località ha un suo appeal, che la località tira, che il comparto è stato in grado di rispondere efficacemente ad una situazione molto difficile, che è quella vissuta negli ultimi due anni, ma da qui si deve ripartire e deve servici semplicemente a dare uno slancio all'intero settore, alle interne località, per guardare non la 2022, ma almeno la 2030 per lo sviluppo delle nostre coste. Prevenzione è vita, questa è la frase che si legge sulla fiancata del Vaporetto Rosa, Ali Laguna, che ieri, poco dopo le ore 11, è salpato da Piazzale Roma per il suo viaggio inaugurale attraverso il Canal Grande, per arrivare alla rituale cerimonia di inaugurazione a Cafforsetti. A tagliare il nastro, la Presidente del Consiglio Comunale, Ermenelinda Damiano, all'inaugurazione erano presenti altre cariche istituzionali e l'ideatrice del progetto Ali Laguna, Rachele Sacco, che ha sottolineato l'importanza di tornare a sottoporsi a controlli, ribadendo che la pandemia ha causato un drastico calo di adesione alle visite di controllo e ritardi significativi di esami fondamentali. L'imbarcazione solcherà le acque di Venezia per tutto il mese di ottobre, per diffondere la cultura della prevenzione, di uno stile di vita corretto e l'importanza di una diagnosi precoce. Infine lo sport si è tenuta oggi a Chioggia la Family Run 2021, con oltre 1.400 partecipanti. È stato organizzato, fino all'inizio abbiamo detto, in caso arrivassimo lì, alla fine insieme, perché non tagliare i traguardi insieme? Purtroppo abbiamo perso durante il percorso dei nostri amici e comunque siamo arrivati in due e è una grandissima soddisfazione. La differenza tra una gara è che comunque non è competitiva, quindi è meno pesante da fare. Il vento? Il vento è stato un po' pesante, specialmente nelle parti in cui si era contro vento. Sindaco, innanzitutto come è stata questa settimana? È una settimana impegnativa, comunque si sta lavorando già, ci si sta muovendo sul territorio, continua ad essere il sindaco tra la gente e questa giornata splendida, proprio l'immagine bellissima che dà la città di Chioggia, proprio c'è voglia di ripartire dopo questa pandemia, speriamo che sia di buon auspicio. Infine, prima di lasciarvi, vi ricordo la diretta di questa sera alle 21.20 con Loki da Asiago. Con questa notizia è tutto, io vi ringrazio e vi do appuntamento alle prossime edizioni. e vi ringrazio e vi ringrazio e vi ringrazio.